Cominciamo con un racconto un po' zè, direi proibito, anzi proibitissimo. È il racconto della storia dell'Ucraina e della Russia che, udite udite, non è iniziata il 24 febbraio 2022, ma un bel po' prima. L'Ucraina è una repubblica semipresidenziale, grande due volte l'Italia, 42 milioni di abitanti, a sud a faccia sul Mar Nero e sul Mar Dazov, a est con la Russia, a nord con la Bielorussia, a ovest con la Polonia, la Slovacchia e l'Ungheria e a sud a ovest con la Romania e la Moldavia. Nonostante l'enorme produzione di grano, è il secondo stato più povero d'Europa dopo la Moldavia, ma è anche fra i più armati del mondo, prima del 24 febbraio era la ventiduesima potenza militare. Nella sua storia ha sempre o quasi fatto parte della Russia, però nel 17, quando scoppia la rivoluzione d'ottobre, l'Ucraina è divisa fra l'impero zarista e la Polonia, l'Unione Sovietica la riunifica e ne fa una repubblica socialista. Negli anni 30 la furia collettivista di Josef Stalin porta allo sterminio di 4 o 6 milioni di kulaki, proprietari terrieri, soprattutto nel centro e nell'ovest del paese, scatenando l'odio antirusso della popolazione. Nel 1941, quando le truppe di Hitler marciano verso Stalingrado, vengono accolte come liberatrici e trovano in Ucraina migliaia di collaborazionisti per rastrellare, depredare e deportare gli ebrei nei lager. L'ideologo nazista Stefan Bandera diventa l'eroe nazionale. Alla fine della guerra mondiale gli americani salveranno migliaia di nazisti in funzione antisovietica e Bandera potrà fuggire a Monaco sotto falso nome, finché non sarà scovato ed eliminato dal KGB. 1989, facciamo un salto, il 9 novembre, crolla il muro di Berlino e l'Unione Sovietica inizia a dissolversi. 1990, il presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov abolisce il partito unico e indice libere elezioni nelle 15 repubbliche sovietiche. Quasi dappertutto il PQS, il partito comunista sovietico, perde e vincono i partiti riformatori nazionalisti filo-occidentali, Lituania, Moldavia, Estonia, Lettonia, Armenia, Georgia, ma non in Ucraina dove rivincono i comunisti. Comunque Lituania, Ucraina, Estonia, Lettonia e Georgia proclamano l'indipendenza. La Germania Est si unisce all'Ovest ed entra nella NATO automaticamente. La Russia non si oppone, ma a patto che la Germania Est resti immune da missili NATO e basi NATO. USA e NATO promettono verbalmente a Gorbaciov che la NATO non si allargerà nemmeno di un pollice a Est. Lo dichiarano il ministro tedesco Genscheri, il segretario di Stato americano Baker, il presidente americano Bush, il segretario generale della NATO Warner. 1991 Boris Yeltsin viene eletto presidente della Russia. Il patto di Varsavia si scioglie, ma la NATO no, resta in piedi in funzione antirussa. Ma i direttori politici dei ministeri degli esteri americano, inglese, francese e tedesco si riuniscono a Bonn e confermano questa volta per iscritto che la NATO non si espanderà a Est. Il tedesco Kröberg mette a verbale, non estenderemo la NATO oltre l'Elba, non possiamo quindi dare alla Polonia e agli altri l'ingresso nella NATO. E l'americano Saitz, abbiamo chiarito all'Unione Sovietica che non trarremo alcun vantaggio dal ritiro delle truppe sovietiche dall'Europa dell'Est. Si tiene un referendum in Ucraina, il 71% vota per restare nell'Unione Sovietica. Bush parla al Parlamento ucraino e si scaglia contro il nazionalismo suicida basato sull'odio etnico. Poi però cambia idea e dice che l'Ucraina ha diritto all'indipendenza. Si tiene un nuovo referendum in Ucraina e stavolta il 90% della popolazione vota per l'indipendenza dall'URSS che si scioglie alla fine dell'anno. Però Russia, Bielorussia e Ucraina si uniscono nella CSI, Comunità di Stati Indipendenti. 1993. Ucraina e Russia iniziano a spartirsi la flotta del Mar Nero e le basi militari. Le loro economie passano dal collettivismo comunista alle privatizzazioni selvagge, in mano a un pugno di oligarchi che rilevano i colossi pubblici e diventano miliardari, alimentando miseria, corruzione e malcontento in entrambi i paesi. 1994. Memorandum di Budapest. L'Ucraina trasferisce il suo arsenale nucleare alla Russia in cambio dell'impegno di Mosca a rispettare l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina. Il presidente comunista ucraino, ucraino Leonid Kavchuk, è sconfitto alle elezioni da Leonid Kukma, che si tiene in equilibrio tra Russia e Occidente, grazie agli ottimi rapporti che Yeltsin ha instaurato con il nuovo presidente americano, Bill Clinton. La Russia diventa un partner della Nato addirittura, ma la Nato collabora anche con l'Ucraina. 1997. Joe Biden, all'epoca soltanto senatore democratico del Delaware, futuro vicepresidente e poi presidente americano, dichiara al Consiglio Atlantico. Annettere alla Nato gli stati paltici sarebbe l'unica mossa che rischierebbe di provocare una risposta vigorosa e ostile da parte della Russia e spostare gli equilibri fra Russia e Stati Uniti. 1999. La Nato inizia a violare i patti, invitando e inglobando Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, anche se la Russia è in ginocchio e non presenta alcuna minaccia. Mosca protesta, ma non ha la forza di reagire. La seconda mossa della Nato contro la Russia è l'attacco al principale alleato di Mosca in Europa, la Serbia di Slobodan Milosevic, bombardata per 11 settimane senza alcun mandato dell'ONU. Il bilancio sarà tra i 1000 e i 5000 morti, quasi tutti civili, e un fiume di profughi. La Nato non la chiama guerra, ma operazione di ingerenza umanitaria. Yeltsin protesta. È il primo segnale di cosa potrebbe accadere se la Nato arrivasse ai confini della Russia. Le fiamme della guerra potrebbero bruciare per tutta l'Europa. Ma non ha la forza neanche stavolta di reagire. È vecchio e malandato e le sue folle liberalizzazioni suggerite dal Fondo Monetario hanno messo il Paese in ginocchio. Però Yeltsin scatena la seconda guerra in Cecenia contro i ribelli separatisti e islamisti. Poi nomina a premier il direttore dei servizi segreti Vladimir Putin, che alla fine dell'anno lo sostituirà come presidente. In dieci anni Putin riconquisterà la Cecenia con massacri e devastazioni indicibili e decine di migliaia di morti su entrambi i fronti. Intanto però avvierà il riscatto economico e strategico della Russia al prezzo però di un regime sempre più autoritario e ferocemente repressivo. 2000. In Ucraina va al governo il filo occidentale Viktor Yushchenko. 2001. Attacco alle due torri e al Pentagono. 11 settembre. Al-Qaeda. La Russia partecipa insieme all'Occidente alla guerra al terrorismo islamista e concede alla Nato lo spazio aereo per fare la guerra all'Afghanistan. 2002. Caduto il premier filo occidentale ucraino Yushchenko va al governo il filo russo Viktor Yanukovych. 2003. Altro ceffone alla Russia. George W. Bush e i suoi alleati, non la Francia però, attaccano l'Iraq di un altro alleato di Mosca, Saddam Hussein, con il pretesto di suoi inesistenti armi di distruzione di masse e di suoi inesistenti rapporti con Osama Bin Laden. Anche stavolta senza l'avallo preventivo dell'ONU. E anche stavolta non la chiamano guerra. lotta al terrorismo. Esportazione della democrazia. Bilancio. In vent'anni fra Iraq e Afghanistan almeno un milione di morti. 2004. La Nato ingloba anche la Bulgaria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia. Il premier filo russo ucraino Yanukovych viene eletto presidente, battendo di misura il filo occidentale Yushchenko. Ma la Corte Suprema Ucraina annulla le elezioni per le proteste popolari contro sospetti brogli e la rivoluzione arancione sostenuta dagli americani. Yushchenko, avvelenato dalla diossina, resta sfigurato ma sopravvive e nelle elezioni ripetute diventa presidente. 2006. Nuovo ribaltone a Chievi. Il filo russo Yanukovych alle elezioni politiche batte il partito del presidente e torna primo ministro. A Mosca viene uccisa la giornalista dissidente Anna Politkoskaya. Non è e non sarà l'unica. 2007. Gli Stati Uniti lanciano un progetto di scudo spaziale con basi antimissili e radar puntati sulla Russia dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca. Francia e Germania sono contrarie perché è un'ennesima provocazione contro Mosca. Putin minaccia di contropuntare i suoi missili sulla Polonia e gli americani fanno marcia indietro. A Monaco, in un famoso discorso, Putin tuona contro l'Occidente che ha violato i patti del 1989-90. Il presidente ucraino Yushchenko scioglie le camere contro il premier Yanukovych che ha tentato di limitare i suoi poteri. Manda l'Ucraina al voto anticipato e batte il partito filo russo alleandosi con l'altra leader di estrema destra, Iulia Timoshenko. La Timoshenko diventa premier e nel 2010 promuoverà il nazista Stefan Bandera a eroe nazionale. 2008, spinta da George W. Bush, la Nato riunisce a Bucarest e il suo vertice e annuncia che presto l'Ucraina e la Georgia diventeranno membri della Nato. Putin commenta che è una minaccia diretta alla Russia. La Georgia attacca la repubblica separatista filorussa dell'Ossetia del Sud. La Russia interviene militarmente e già che c'è, invade anche l'altra repubblica separatista, l'Abkhazia. In dieci giorni le gruppe georgiane vengono ricacciate da quelle russe oltre il confine. 2009, la Nato ingloba anche l'Albania e la Croazia. 2010, l'ex premier filorusso Yanukovic si prende la rivincita contro la Timoshenko, vince le elezioni presidenziali, diventa capo dello Stato e apre un dialogo con l'Unione Europea per farci entrare l'Ucraina. La Timoshenko sarà poi condannata a sette anni per malversazione di fondi pubblici e abuso d'ufficio. 2011, la Nato, aggirando ancora una volta l'ONU, attacca la Libia del colonnello Muammar Gheddafi, altro alleato di Putin che viene messo in fuga dai bombardamenti e poi brutalmente assassinato. 2013, Yanukovic per le clausole troppo stringenti imposte dal Fondo Monetario in cambio di prestiti, riforme antisociali, aumento delle bollette eccetera, non firma l'accordo tra Ucraina e Unione soviet e Unione Europea. Per premio Putin riduce il prezzo del gas all'Ucraina e le presta anche 15 miliardi di dollari, ma anche gli americani tentano di comprarsi l'Ucraina fomentando rivolte di piazza e mandando ingenti finanziamenti. Il presidente Barack Obama invia a Kiev Victoria Nuland, assistente del segretario di Stato John Kerry per gli affari europei e asiatici, che ha già servito diversi padroni, per esempio Bush, ora serve Obama e in futuro servirà Biden, è l'anima nera degli americani in Ucraina. Infatti dichiara noi americani abbiamo investito 5 miliardi di dollari per dare all'Ucraina il futuro che merita. Decide lei quale. Subito dopo scoppia a Kiev la rivolta di Euromaidan contro Yanukovic e a favore dell'ingresso nell'Unione Europea. 2014, i primi due mesi dell'anno sono segnati da violente e sanguinose proteste nazionaliste in piazza Maidan con l'aiuto di milizie neonaziste che riducono all'impotenza la polizia e alla fine costringeranno il presidente appena eletto Yanukovic a dimettersi e a rifugiarsi a Mosca. Poco dopo su YouTube viene pubblicata forse dai servizi segreti russi una telefonata intercettata fra Victoria Nuland e Geoffrey Payet, abbasciatore americano in Ucraina. I due già sanno che Yanukovic cadrà e stanno decidendo quali dei suoi oppositori dovranno fare il premier o i ministri del futuro governo. L'ambasciatore dice che bisognerebbe consultare l'Unione Europea, ma la Nuland urla fuck the you, fottiamo l'Unione Europea oppure che si fotta l'Unione Europea. La Merkel e il presidente del consiglio Unione Europea van Rompuy protestano per parole assolutamente inaccettabili, non però perché gli americani stanno decidendo il governo e il futuro dell'Ucraina come se fosse una loro colonia. A est intanto nel Donbass si rivoltano i separatisti russofoni sostenuti dai russi. La Crimea si proclama indipendente e con un referendum vinto dai si al 96% si riunisce alla Russia. A Kiev le nuove elezioni presidenziali le vince il filo occidentale Petro Poroshenko, oligarca, re del cioccolato, ex banchiere centrale, proprietario della TV 5 Canal che ha promesso l'apartheid per i russofoni. Noi avremo lavoro, loro no. I nostri figli andranno a scuola, i loro figli staranno nelle cantine. La sua nuova alleata, Timoshenko, appena scarcerata, ha invece chiesto di uccidere questi maledetti moscoviti e di colpirli con le atomiche. Nel nuovo governo filoamericano ci sono almeno 4 ministri neofascisti. Primo atto, abolire il russo come seconda lingua ufficiale, uno status che ora sarà riservato soltanto all'Ucraino, in un paese dove il 35% degli abitanti è russofono. Il 12 maggio miliziani neonazisti e attivisti ultranazionalisti marciano su Odessa scatenando violenti scontri con i russofoni e incendiano la casa del sindacato dove si sono rifugiati decine di filorussi. Ne muoiono almeno 42 di cui 3 bruciati vivi e 10 saltando dalle finestre del tentativo di mettersi in salvo, ma i filorussi parleranno di oltre 150 morte e centinaia di feriti e ustionati. Nel referendum per l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche del Donbass, il Donetsk e il Lugansk stravincono i sì, ma solo la Russia li riconosce. Kiev manda le truppe e così fa Mosca. Alla fine dell'anno gli accordi di Minsk patrocinati dall'OSCE prevedono il cessato il fuoco, scambi di prigionieri, impegno dell'Ucraina a dare maggiore autonomia al Donbass, ma il presidente Poroshenko li viola subito con una pesante operazione antiterrorismo mentre la Russia sostiene i separatisti. Decisivo il ruolo accanto alle truppe di Kiev degli ultranazionalisti di Pravi Sektor, settore destro, e dei neonazisti del battaglione di Azov che nel culto di Stefan Bandera esibiscono vessilli e tatuaggi con svastiche più o meno stilizzate. Quando strappa ai filorussi Mariupol, la Azov viene integrato nella Guardia Nazionale Ucraina da Poroshenko, che nella cerimonia di primezione definisce i nazisti i nostri migliori combattenti volontari. Inizia la lunga guerra civile del Donbass, un conflitto per procura fra truppe ucraine finanziate e armate da Stati Uniti e Gran Bretagna e separatisti sostenuti da Mosca. Bilancio, in 8 anni, almeno 14.000 morti, di cui 4.800 civili e 200.000 profughi verso la Russia. Fra le vittime ci sono almeno 40 giornalisti, di cui uno è italiano, Andrea Rocchelli, schedato dai servizi di Kiev e poi ucciso in Donbass da un colpo di mortaio sparato contro i civili dalle truppe ucraine. Il governo di Kiev non ha mai collaborato con la giustizia italiana, anzi ha depistato le indagini attribuendo l'assassinio a terroristi filorussi. 2015, accordi di Minsk, due tra Russia e Ucraina, stavolta garantiti da Francia e Germania. Statuto speciale per il Donbass, zona cuscinetto fra Ucraina e Russia. Ma la guerra civile continua. La Fondazione Russa per lo studio della democrazia invia all'OSCE un rapporto sulle violenze dei servizi e dei paramilitari neonazisti ucraini in Donbass, non solo contro i militanti separatisti, ma anche contro i civili russofoni catturati. Elettroshock, torture con bastoni di ferro e coltelli, waterboarding, simulazioni di annegamento tipo Afghanistan, Iraq e Guantanamo, soffocamento con sacchi di plastica, unghie strappate, ossa frantumate, strangolamenti tramite garrota, detta la garrota banderista in onore dell'eroe Pandera. Prigionieri spinti a forza sui campi minati o stritolati da carri armati, celle geludi e senza cibo, somministrazione di psicotropi letali, prigionieri marchiati con svastiche e scritte SEPR, separatista, con lame roventi sul petto e sulle natiche dei prigionieri. L'ONU, l'OSCE e l'Amnesty International condanneranno più volte gli uomini neri del battaglione Azov, definiti dall'OSCE responsabili dell'uccisione di massa di prigionieri, occultamenti di cadaveri nelle fosse comuni e uso sistematico di tecniche di tortura fisica e psicologica, migliaia di casi mai perseguiti dal governo e dalla giustizia ucraini. Intanto in Siria dal 2011 gli americani e i loro alleati, Sauditi, Emirati, Kuwait, Qatar e Turchia, soffiano sul fuoco delle rivolte contro il principale alleato dei russi in Medio Oriente, la Siria del dittatore Bashar al-Assad, contestato dai ribelli filo-occidentali armati e finanziati da Washington. È l'ennesima guerra civile per procura che mira a sostituire il tiranno filo-russo e filo-iraniano con un fantoccio filo-occidentale. Putin interviene militarmente per difendere le due basi russe di Latakia e Tartus, con grande brutalità bombardando sia lo stato islamico dell'Isis, sia i ribelli anti-Assad, radendo al suolo Aleppo e altre roccaforti dei ribelli e usando anche armi chimiche. Bilancio della guerra in Liberia, 350.000 morti in 10 anni. 2017, anche il Montenegro entra nella Nato. 2019, il Presidente ucraino Poroshenko fa emendare la Costituzione per impegnare l'Ucraina a entrare nella Nato e nell'Unione Europea, poi però perde le elezioni presidenziali. Il nuovo Presidente è Volodymyr Zelensky, un comico russofono che passa per dialogante con Mosca, che ha vinto il ballando con le stelle ucraino ed è diventato celebre per la serie Servant of the People sul canale TV 1 più 1 di un oligarca di origine ebraica come lui, Igor Kolomoisky, grande azionista della banca Privat Group e Presidente della squadra di calcio del Dnipro, re dei metalli, terzo uomo più ricco d'Ucraina, finanziatore di una trentina di formazioni palamilitari di estrema destra, dal battaglione Azova al battaglione Dnipro. L'oligarca amico di Zelensky risiede però in Israele da quando il suo nemico, l'ex Presidente Poroshenko, gli ha fatto sequestrare la banca con l'accusa di aver rubato 5 miliardi. Anche Zelensky è sospettato di traffici finanziari e fiscali tutt'altro che chiari, società offshore nei paradisi fiscali e una villa non dichiarata a Forte dei Marmi. Tutto ciò risulta dai Pandora Papers, cioè da un'inchiesta indipendente di un pool di giornalisti internazionali occidentali. Appena eletto Zelensky promette al Parlamento la fine della guerra civile in Donbass, ma non darà mai ordine alle sue truppe di cessare il fuoco. In compenso decreta un'offensiva militare per riconquistare la Crimea e ribadisce la richiesta alla Nato di far entrare l'Ucraina quanto prima. A novembre i quattro paesi di Minsk, Russia, Ucraina, Francia e Germania firmano un nuovo accordo per uno scambio di prigionieri e una riforma costituzionale che dia ampia autonomia al Donbass. Ma resterà lettera morta anche quella. L'attacco americano agli alleati di Putin intanto prosegue e arriva in Venezuela, dove il presidente rieletto Nicolás Maduro subisce un golpe orchestrato da Trump per tentare di rimpiazzarlo col presidente dell'Assemblea Nazionale Juan Guaidó. 2020. La Nato ingloba anche la Macedonia del Nord. 2021. Zelensky confisca le tv di opposizione legate al partito Opposition Platform for Life dell'orgarca filorusso Viktor Mederchuk, che sarà poi arrestato durante la guerra insieme alla messa fuori legge di tutti e 11 i partiti di opposizione. L'Unione Europea protesta, Zelensky chiede alla Nato di accelerare l'ingresso dell'Ucraina per inviare un segnale reale a Mosca e perché dice che la Nato è l'unica soluzione per porre fine al conflitto. Putin minaccia conseguenze e ammassa 100.000 uomini al confine ucraino. Il 14 giugno il vertice Nato di Bruxelles ribadisce il sostegno alle aspirazioni dell'Ucraina a entrare nell'Alleanza Atlantica. Tra giugno e settembre dell'anno scorso la Nato conduce tre imponenti esercitazioni militari in Ucraina, che pure non fa parte della Nato. Mosca risponde con esercitazioni congiunte con l'alleata Bielorussia. Il 1 dicembre Putin chiede garanzie sul fatto che l'Ucraina non entri nella Nato perché ciò, dice, comporterebbe avere missili americani nel cortile di casa nostra. Washington risponde picche, porte aperte all'Ucraina nella Nato. E così siamo al 2022. Il 19 gennaio il presidente americano Joe Biden annuncia aiuti militari a Kiev per 200 milioni di dollari e per un mese annuncia ogni giorno, quasi che se la augurasse, l'invasione russa dell'Ucraina. Il 7 e 8 febbraio il presidente Macron, francese, in un estremo tentativo di mediazione, strappa a Kiev e a Mosca l'impegno a rispettare gli accordi di Minsk. Zelensky lo conferma in una conferenza stampa al suo fianco, ma l'indomani cambia idea e annuncia che non rispetterà i patti di Minsk. Il 10 febbraio russi e bielorussi avviano manovre militari congiunte. Il 19 febbraio altro tentativo di mediazione disperato del cancelliere tedesco Ola Scholz, che chiama Zelensky per chiedere di scongiurare la guerra dichiarando la neutralità dell'Ucraina e la rinuncia alla Nato in cambio di un ampio accordo di sicurezza per l'Ucraina e per tutta l'area firmato da Putin e da Biden. Zelensky rifiuta dicendo che di Putin non ci si può fidare. Il 21 febbraio Putin accoglie la richiesta della Duma e il Parlamento russo di riconoscere le repubbliche autonome di Donetsk e Lugansk. Zelensky fa battute sull'invasione, a cui non crede, ma le sue forze armate schierate per un terzo davanti alla Crimea intensificano i bombardamenti sul Donbass. Il 22 febbraio Donetsk e Lugansk chiedono aiuto a Mosca contro l'aggressione delle forze armate ucraine. Il 24 febbraio l'armata russa invade l'Ucraina. E ora ne parliamo.